Ciao ragazzi, oggi è il grande giorno del battesimo di Daniel Maria mi sta truccando, Maria D'Ambro, che è una truccatrice bravissima se non la seguite su Instagram fatelo, perché pubblica dei make-up stupendi e niente che emozione ragazzi, adoro, questo è il trucco finito, cioè è meraviglioso meraviglioso, fatto da Maria cioè non so lei come faccia, ma è bravissima ragazzi, vi giuro che sono troppo felice trucco e anche capelli mi ha fatto, sono felicissima mi sento bellissima grazie a Maria, adoro favoloso filtri, perché questo è il filtro Maria, cioè il suo trucco in realtà è un filtro, meraviglioso lei è bravissima, ve la trovo qua, seguitela per la ridurre grazie a tutti grazie 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 questo ristorante questo ristorante si chiama il quarto miglio che si trova a quarto in provincia di Napoli venite venite perché si mangia benissimo è una location veramente fantastica grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.